Quella, finisce così e poi attacca il secondo brano, vi ricordo sempre con Richard Benson, devo dire, c'è una storia vera che io ho raccontato, poi abbiamo deciso di escludere quella trasmissione lì e un'altra volta andò male la voce col microfono e successe un casino, per cui ogni volta, ogni volta che volevo raccontare questa storia vera che riguarda mia zia, non sono mai riuscito a raccontarla e la voglio raccontare stasera, siamo vicino a Natale e a Natale bisogna non abbandonare gli animali, ma stare vicini agli animali! Ok, per cui è una storia di animali, eccola qua. Mia zia ha un cane, questo cane è negli anni diventato molto amico del coniglio della casa vicino del signor Jones, mia zia si chiama Janet e ha un cane e il suo vicino di casa che si chiama il signor Jones ha un coniglio, questo cane e questo coniglio sono diventati amici per la pelle, giocano sempre insieme, stanno sempre insieme, ecco questo un po' il discorso. Una mattina, di prima mattina, il cane con la zampetta a casa di mia zia bussa alla porta, bussa alla porta, mia zia apre e vede spaventatissima il coniglio nella bocca del cane, il cane come se avesse morso la gola di questo coniglio e il coniglio è morto! mia zia dice, beh il signor Jones adesso sono le 7 di mattina, lui è andato già alle 5 del mattino per prendere il treno perché abitano a Dover e devono arrivare due ore a Londra col treno, quando tornerà verso le 6 e mezza, 7 di sera, troverà il suo coniglio a cui tiene in una maniera esemplare morto! Mia zia non sa cosa fare veramente, si trova in panne, si mette a girare su se stessa, pensa che ripensa, pensa che ripensa e allora siccome in Inghilterra si usa in questi piccoli paesi tipo Dover eccetera, mettere la chiave sopra il portone o sotto una pianta eccetera, perché non succede mai niente da quelle parti per fortuna, escogida uno stratagemma, questa è una storia vera, lo stratagemma sarebbe questo, il cane è venuto con in bocca il coniglio morto, come se l'avesse preso per la gola, cioè una muzzicata alla gola e ammazzato, allora decide di riprendere le chiavi della casa vicino del signor Jones, di prendere il coniglio e di rimettere il coniglio nella gabbia, ecco a questo punto mette il coniglio nella gabbia, chiude il portone del signor Jones, ritorna a casa e aspetta l'ora fatidica che torna il signor Jones dal lavoro, a un certo momento il signor Jones torna, aprirà la porta e mia zia sente questo oh Dio mio no, oh Dio mio che è successo adesso, madonna devo correre di corso dal signor Jones, ha trovato il coniglio morto in gabbia, chissà che cosa è successo, mia zia corre dal signor Jones, il signor Jones le dice, cara signora Janet, mia vicina di casa, è successo un fatto veramente emblematico, io stamattina mi sono svegliato alle 5 e ho trovato il mio coniglio morto nella sua gabbia, che cosa ho fatto io? Ho preso il coniglio, sono andato in un giardino, ho scavato una fossa praticamente e ho ricoperto di terra facendo una tumba per il mio coniglio, adesso questo coniglio da morto è ritornato nella gabbia! In fondo era successa una cosa molto semplice, il cane sveglio aveva visto il signor Jones che tumolava con la terra il suo coniglio e è andato a scavare, a scavare, a scavare per ritrovare il suo amichetto, se l'è messo in bocca e è andato a casa di mia zia, questa è la storia, può succedere anche questo!